Stampava soldi e documenti falsi, in casa aveva anche armi. I carabinieri della compagnia Palermo-Piezzaverdi hanno arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di possesso clandestino di armi, falsificazione di monete e introduzione nello Stato di denaro falso, nonché possesso e fabbricazione di documenti di identificazione contraffatti. I militari hanno perquisito l'appartamento dell'indagato nel quartiere Ciaculli e hanno trovato tre pistole a tamburo modificate, due delle quali senza matricola, nonché di quasi 80 cartucce di diverso calibro. La perquisizione ha inoltre consentito la scoperta di una vera e propria stamperia clandestina allestita all'interno di un locale, attrezzato con computer, sofisticate stampanti e matrici utili alla fabbricazione illecita, non solo di denaro, ma anche di documenti di identità, patenti di guida e codici fiscali. Nel corso della ricerca sono stati recuperati e sequestrati oltre 50.000 euro in banconote false di vario taglio, nonché diversi documenti di identificazione contraffatti. Il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto.